Il quartiere Gammarana denuncia l'abbandono del territorio, un quartiere allo sbaraglio con la segnaletica ormai inesistente, con parcheggi allo Stato Brado. È così? Hai centrato in maniera perfetta qual è la situazione. Comprendiamo che nell'ultimo periodo sono state azioni antropiche che hanno un po' scosso sia l'opinione pubblica sia la parte amministrativa, ma non possiamo più assistere a questo totale abbandono che c'è in Gammarana. Mancanza totale di segnaletica o segnaletica di velta, anche per maleducazione, oppure strade abbandonate, oppure parcheggio selvaggio. Ognuno fa quello che vuole. Quindi oggi con questa nota vogliamo riportare all'attenzione questo problema. Il problema è che afferisce alcuni spazi ben precisi. Ci riferiamo all'area adiacente alla scuola di Jacobis, intersezione tra via di Jacobis e via Tripoti, dove lì c'è un parcheggio selvaggio di macchine, impedendo di fatto a chi utilizza mezzi diversi, quindi le proprie gambe, di spostarsi, ma anche chi utilizza un mezzo a motore è costretto a fare gincane per superare gli ostacoli, arrecando pericolo quotidiano, ma soprattutto nei riguardi dei bambini. Ci riferiamo alla via Romualdi, alla strada adiacente al circolo tennis, quello spazio pubblico utilizzato a fini privati. Da anni abbiamo contestato questa cosa. Voi avete inviato una nota agli assessori competenti per chiedere una maggiore attenzione. Sì, abbiamo mandato al sindaco, quindi al riferimento dell'amministrazione, ai singoli assessori competenti per materia. Mi riferisco all'assessore Cozzi per la manutenzione, mi riferisco all'assessore Antonini, ricordando soprattutto che spesso i vigili, le volte che li vediamo passare, invece di fermarsi, perché alla maleducazione alcune volte bisogna interagire anche in maniera pesante, bisogna mettere in campo quelle azioni per riportare a un vivere più civile, affinché mettono in campo queste azioni. Volevo aggiungere un altro aspetto. L'unico agorà in Gammarana che c'è, mi riferisco allo spazio antistante dell'area di Acobis, frequentata quotidianamente e soprattutto da bambini, abbiamo chiesto e torniamo a chiedere che venga installata un'illuminazione che faccia al caso e soprattutto l'installazione anche di una fontanella d'acqua, sperando che l'acqua possa essere ancora utilizzata.